Adesso invito il Presidente Giorgio Meloni per fare il suo discorso, grazie. Buonasera a tutti, grazie per questo invito, grazie per questa bella iniziativa, grazie a ESMA, a Dario, a tutto il direttivo dell'Associazione. Approfitto per scusarmi e per farvi i complimenti perché confesso che non conoscevo molte delle attività che l'Associazione porta avanti, che sono un racconto molto più completo della realtà italiana per le persone alle quali raccontate chiaramente con il vostro lavoro quello che accade qui e quindi mi sono già iscritta chiaramente al settore quello vino, mangiare, quello lì e davvero vi faccio i complimenti, vi faccio l'in bocca al lupo anche per la vostra nuova sede, non so cosa Silvio Berlusconi dall'assù pensi del fatto che questa banda di comunisti come lui l'avrebbe definita si trasferisce a Palazzo Grazioli ma sono i casi della vita, signori e succede, è davvero insomma vi ringrazio per questo appuntamento che considero un appuntamento molto bello, molto significativo, chiaramente temo che sarò un po' deludente per voi, ho sentito lo splendido intervento della Presidente e so insomma che in questa occasione ci si aspetta dal Presidente del Consiglio un intervento leggero, diciamo divertente, io non ero leggera manco a 15 anni, figuratevi dopo 16 mesi che faccio il Presidente del Consiglio, in tutto questo voi mi invitate nel giorno in cui perdo le elezioni in Sardegna e sto pure facendo la quaresima e non posso neanche affogare i miei dispiaceri nell'alcol per cui non è la giornata oggettivamente migliore per aspettarsi da me della simpatia e dell'allegria è andata così, in ogni caso chiaramente trovo questa, dicevo trovo questa iniziativa bella perché trovo questa iniziativa bella perché al di là del mio discorso, al di là dei discorsi insomma ufficiali questa è un'occasione per conoscerci, per conoscerci come persone e questo è importante per tutti noi per fare meglio il nostro lavoro io ho sempre pensato che per capire la politica, come per capire la storia, come per capire la letteratura devi cercare di capire i protagonisti, che cosa avevano in testa, chi erano vale anche per i giornalisti, quando tu leggi un commento, io politico leggo un commento se so chi è che ha scritto quel commento, io sono in grado di comprendere e di interpretare meglio quel commento e allora avere l'occasione in qualche modo di avere del tempo per conoscerci può consentirci anche di avere tutti quanti, come posso dire, un giudizio più completo e un rapporto più franco io credo che questo sia molto importante penso che cercare di capire le persone possa consentire a ciascuno di noi di fare meglio il nostro lavoro penso che possa consentirlo a me per raccontare meglio chi sono, che cosa faccio penso che possa consentirlo a voi che oltretutto consentitemi di dire se siete stati mandati a fare i corrispondenti in Italia cioè a tentare di raccontare la politica italiana a persone lontane da qui una politica italiana che non capiscono neanche i politici italiani o i vostri direttori vi detestano o obiettivamente vi stimano parecchio perché non è una cosa facile ma anche per questo conoscersi e conoscere le persone meglio aiuta meglio a interpretare la realtà e io penso che nel caso mio valga ancora di più perché voi sapete che io sono cintura nera di stereotipi, di etichette sono una persona che è stata raccontata in tutti i modi possibili e immaginabili quando a volte, quando le persone mi hanno conosciuto hanno scoperto una realtà diversa da quella che era stata raccontata e hanno cambiato il loro giudizio delle volte magari in negativo, molto spesso in positivo per me non era difficile quando vieni presentato come se fossi un marziano, un mostro e ti presenti e dimostri che hai solo due occhi e non ne hai sei diciamo già stupisci positivamente però questo viaggia attraverso la conoscenza reciproca e allora io posso soprattutto provare a dirvi chi sono quindi diciamo comincio io in questa specie di seduta psicanalitica che stasera facciamo insieme raccontando chi penso di essere al di là del fatto che sono il presidente del Consiglio dei Ministri sono Giorgia, intanto buonasera poi qualcuno direbbe sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana ma diciamo questa è tutta roba che a Roma si dice abbiamo già messo al pizzo cioè già sappiamo a parte questo sono giornalista come voi questo non so quanti lo sanno ma sono soprattutto una persona che ha speso due terzi della sua esistenza diciamo nell'impegno politico ancora adesso dopo 30 anni di impegno politico considero la politica la più straordinaria forma di impegno civile che esista non avrei tuttavia mai immaginato di arrivare dove sono e forse ci sono arrivata esattamente per questo non amo starci e potrei rimanerci più degli altri esattamente per questa ragione uno dei miei collaboratori di lungo corso dice che il mio slogan è moriremo tutti è corretto io non sono una persona ottimista guardo sempre il bicchiere mezzo vuoto però siccome sono in grado di immaginare sempre lo scenario peggiore possibile e di solito la sorte è molto più magnanima di me poi sono anche in grado di affrontare tutti gli altri scenari perché io mi ero predisposta a quello peggiore nessuno dei miei sogni nel cassetto si è realizzato io avrei voluto fare la cantante ma sono stonata avrei voluto giocare nella nazionale di pallavolo ma sono nana avrei voluto conoscere Michael Jackson ma è morto troppo presto tra questi sogni non c'era quello di fare il presidente del consiglio dei ministri perché sono per questo una persona troppo lucida però Michael Jackson mi ha insegnato l'inglese perché non tutti sanno che io ho imparato l'inglese soprattutto perché ero un'appassionata di musica e volevo capire che cosa dicessero questi testi questo mi ha molto aiutato mi ha aiutato soprattutto nella politica estera penso che anche lì la capacità di conoscere davvero chi hai di fronte possa aprire molte opportunità, molti spazi noi siamo tutti i leader nel mondo sono solo persone che cercano di fare il meglio per la propria nazione se riesci a capire bene chi hai di fronte se riesci a creare un'empatia e in questo la lingua chiaramente ti aiuta si possono costruire rapporti molto più soliti di quelli che si possono costruire quando sono filtrati dopodiché sono una persona che come si sa non ha paura di dire quello che pensa delle volte avrei voluto essere diciamo diversa ma non ho paura di dire quello che penso non ho paura di assumermene la responsabilità di pagare nel prezzo sono leale per me è una questione diciamo così di principio mantenere un impegno se prendo quegli impegni ho molti dei sette vizi capitali quasi tutti ma non ho quello più subdolo di tutti e quello in assoluto più devastante per i politici che è la vanità che secondo me è quello diciamo che fa molti più danni in questo campo a dispetto della mia faccia che più o meno è sempre questa non sono sempre arrabbiata è una faccia che mi viene naturale quando sono concentrata una volta per dimostrarla a Ignazio Larussa gli ho mostrato una foto di classe della terza elementare in cui io avevo esattamente questa faccia e non vi dirò come tenevo le mani perché il mio ruolo me lo impedisce per cui diciamo a dispetto di questa faccia sempre corrucciata in realtà sono una persona che ama ridere che ama ridere soprattutto anche di se stessa mi considero una persona per bene una persona buona ma so che non bisogna mai sottovalutare la potenziale cattiveria di un buono costretto a essere cattivo e quindi non bisogna neanche diciamo così sottovalutarmi le cose che mi fanno arrabbiare in assoluto di più sono la slealtà, l'umiliazione e perdere a burraco cosa che di recente mi sta capitando anche abbastanza spesso quindi diciamo che quest'anno non è partito benissimo complessivamente la cosa che amo di più dopo mia figlia è questa nazione e quindi chiaramente mi fa arrabbiare che le si manchi di rispetto e qui mi consentite di dire un paio di cose un po' più serie ma davvero non vi tedierò questa serata diciamo non merita pesantezza nonostante la mia giornata sia stata un po' così credo che questo aiuti a capire anche molto della politica che stiamo cercando di portare avanti io ho sofferto da patriota un'Italia sempre guardata un po' dall'alto in basso un'Italia a volte diciamo sempre considerata poco seria considerata inaffidabile quando sono diventata presidente del consiglio mi sono data come primo obiettivo quello di restituire a questa nazione la sua credibilità di fare del mio meglio perché questa nazione potesse essere considerata credibile, affidabile perché si potesse ribaltare un racconto che a volte per carità era stato anche strumentale l'Italia a spaghetti e mandolino l'Italia della quale non ti puoi fidare è un po' questa la linea che governa la politica che io sto cercando di portare avanti riguarda il tema della politica estera chiaramente che voi seguite le posizioni per quello che mi riguarda si prendono e si mantengono sulla base di quello che è giusto e non sulla base del mutare degli umori vale per l'Ucraina, vale per il Medio Oriente banalmente perché questo è quello che distingue i leader dai follower io penso che ci siano due modi per fare politica ci sono quelli che fanno politica per prendere i voti e quelli che prendono i voti per fare politica sono due cose molto diverse tra loro se sei un leader riesci a, no, devi riuscire a convincere la maggioranza dei cittadini che la tua visione è quella corretta se tu rincorri l'umore degli altri allora non sei in grado di indicare quella strada questo vale per la politica estera voi sapete che in quest'anno noi guidiamo abbiamo la presidenza del G7 chiaramente i temi saranno li conoscete meglio di me c'è un tema che vi riguarda anche come persone che vi riguarda anche come professionisti che io cito, lo faceva anche la Presidente è quello dell'intelligenza artificiale perché guardate noi possiamo parlare quanto vogliamo di libertà di stampa tutti difendiamo la libertà di stampa ma qui il problema è che si rischia di cancellare la stampa e quando non c'è più una stampa purtroppo non potrei difendere neanche la libertà noi sappiamo che l'intelligenza artificiale è una grande opportunità se governata se non è governata può essere un detonatore e siamo abituati a un progresso che diciamo così ottimizza le competenze umane ma eravamo abituati a un progresso che ottimizzava le competenze fisiche e gli uomini si potevano concentrare gli uomini e le donne sui lavori di concetto di organizzazione rischia di non essere più così noi rischiamo un impatto sul mercato del lavoro che riguarda lavori e professioni altamente qualificate come quella del giornalismo che può essere devastante sarà uno dei temi che porteremo al G7 cioè il focus sull'intelligenza artificiale particolarmente per quello che riguarda l'impatto nel mercato del lavoro vale per la politica economica dove abbiamo cercato diciamo di comprare meno monopattini e dedicarci di più diciamo ai salari dei cittadini alla tutela del reddito delle famiglie e ci sono delle buone anche qui delle buone notizie oggi BTP valore non so se volete investire bene due soldi noi abbiamo lanciato questo nuovo BTP valore che è dedicato ai piccoli risparmiatori oggi nella prima giornata ha raccolto 6 miliardi di euro è un record assoluto per cui insomma se avanza qualche soldo che volete investire bene in una nazione seria con un governo longevo ecco ci sarebbe questo BTP valore che mi permetto al quale mi permetto di fare pubblicità chiaramente tutto questo si riesce a fare chiudo davvero se c'è tempo che è quello che è mancato all'Italia che è quello che è mancato ai governi italiani e voi lo sapete bene perché io capisco il punto di vista di chi una volta che è riuscito finalmente a imparare i nomi di tutti i ministri e cambiano che è stata la vostra quotidianità perché a volte non riuscivo a ricordarmeli tutti io e già cambiavano a questa nazione serve stabilità serve la stabilità che le consente di avere una visione serve la stabilità che le consente di dare la priorità agli investimenti rispetto alla spesa corrente che le consente di avere una strategia che le consente di governare i grandi poteri economici che le consente di governare la burocrazia questo si fa soprattutto con le riforme io ho fatto noi abbiamo proposto una riforma costituzionale per la quale ci sono accuse di voler l'altra volta vedevo insomma un famosissimo tra l'altro osservatore americano che insomma citava la riforma del premierato ricordando Mussolini perché si potrebbe con pochi voti avere una maggioranza segnalo che sommessamente che è quello che oggi accade insomma in molte altre democrazie per esempio in Francia dove c'è un presidenzialismo in forza del quale col secondo turno se al primo turno hai preso il 18% al secondo turno se vinci governi la nazione e quindi insomma mi sembrano delle letture delle volte un po' forzate quello che vorrei fare io è semplicemente garantire che chi governa in Italia lo scelgono i cittadini democrazia e che se quel governo scelto ai cittadini va a casa si torna a votare democrazia quindi vorrei dare stabilità e maggiore peso ai cittadini nella definizione dei propri governi perché se noi riusciamo a fare questo per voi sarà più facile lavorare perché insomma i ministri saranno quelli per almeno 5 anni e noi avremo più risultati perché purtroppo non dovremmo metterci a ricominciare da capo ogni anno e mezzo perché è quello che ha devastato questa nazione lo so sono noiosa che devo fare io sono sempre stata noiosa lo sono da una vita per cui mi trovo molto più a mio agio nelle mie cose noiose e sia chiaro che non mi lancerò in una danza questa sera perché insomma diciamo non è proprio il giorno giusto ma vi ringrazio se non altro e chiudo vi ringrazio se non altro per il buon auspicio perché mi avete invitato a questa cena e poi dopo che mi avete invitato mi avete spiegato che dopo due giorni che era venuto Mario Draghi gli avete portato una sfiga senza precedenti quindi diciamo farò del mio meglio per allontanarmi da questa sala il prima possibile per cercare di rimanere un pochino a governare questa nazione grazie davvero a voi buon lavoro e grazie per questo invito ringrazio presidente tantissimo io voglio consegnare la targa dedicata per questa sera e per ringraziare il presidente nel mio discorso non ho detto sono donna turca musulmana quindi mancava solo questo completo io e questo è il tacquino che abbiamo tacquino del corrispondente che abbiamo preparato per ricordare questa sera lei è giornalista può utilizzare tranquillamente come facciate so come ah ecco era di qua e mi pareva non era per lì ah no è molto meglio non era una cosa proprio cioè io l'avevo visto così invece no era ringraziamo lo sponsor Campari proprio stasera grazie 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 io sono del mestiere anche a tutto grazie 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 grazie